guarda guarda che succede si sta cambiando te l'aspettavi tua mamma secondo me papà ha preso il bicarbonato perché non ce la fa a soffiare tanto tanto è vero che bel pasticciotto si finalmente un palloncino e giochi con questo che è gonfiato papà ancora palloncini ma quanti ne dobbiamo gonfiare tanti 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 no 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 ідatto adesso hm o o lo svegli sei una cosa c'è un modo per gonfiare i palloncini che non è il fiato vogliamo provare con l'aceto e il bicarbonato senza toccare vogliamo provare sì serve il cucchiaio brava allora sai dove si mette il bicarbonato nel palloncino aspetta mamma ne ha messo troppo troppo allora papà ti aiuta prendi un palloncino papà vogliamo soffermi bene rosa quale vuoi fare lo rosa si nell'imbuto che è successo come mai scoppiato adesso mettiamo nella bottiglietta piccola un po di aceto lo metto io lo metto io ti aiuta papà dai che sono sola vuoi fare tutto da sola vuoi vedere che succede adesso succede una magia mamma sì così convierai un palloncino solo con l'aiuto dell'aceto e del bicarbonato guarda che succede mamma poco poco alla volta alza il palloncino così il bicarbonato ma nell'aceto guarda che succede geniale te l'aspettavi tu mamma anche quello hai vista mamma che sbaglia che abbiamo fatto si è stata contenta alza il palloncino ci sta combiando? si brava Beatrice ha combiato da solo il palloncino ma ancora dobbiamo combiare questo tutti quanti li vuoi combiare così adesso? tanti dici così non si sforza papà batte contento ti è piaciuto amore questo? ma sono tantissimi e noi continueremo così all'infinito ciao saluta tanti tanti così come il coletto Beatrice lo possiamo dire adesso? chi ha gompiato i palloncini? papà e anche così? così chi è? chi è? chi è? Grazie a tutti.